Non un terremoto, nemmeno l'eruzione di un vulcano, insomma, non una calamità precisa ma comunque qualcosa di talmente grave da dover mobilitare a Frosinone la protezione civile regionale. Ha preso il via all'alba l'operazione Release, esercitazione sul campo per verificare l'efficienza e i tempi di reazione della struttura di emergenza nel Lazio. Testare soprattutto con la risposta del mondo del volontariato a tutto il processo formativo che abbiamo fatto in questi anni per vedere se in caso di una vera emergenza loro si comportano nel sapere allestire un campo, nel sapere gestire una mensa. A far scattare il piano è stato un messaggio di mobilitazione generale. Sono state attivate le procedure di emergenza, aperti i centri operativi e di coordinamento, avviato l'allestimento di un'area di accoglienza nella zona dello stadio Casaleno. Un'area individuata con delibera regionale dell'agosto 2015 fra le sei aree strategiche e regionali. Serve oltre che come campo di accoglienza, serve e potrà servire anche come campo per mettere insieme tutte quelle che sono i soccorritori che dovranno partire alla volta di un'altra regione o verso a dare aiuto agli altri. Sono circa 400 le persone impegnate nell'esercitazione, di cui circa 260 volontari del territorio della provincia di Frosinone e 150 tra personale di amministrazioni, forze dell'ordine e osservatori esterni. Al Casaleno sono stati attivati tre gazebo di accoglienza, un posto medico avanzato, un tendone sociale, una cucina induzione, 23 tende da 8 posti, una postazione mobile, un autocisterno, un generatore elettrico, 40 osservatori esterni e 27 dipendenti dell'Agenzia regionale di protezione civile. L'obiettivo delle esercitazioni è precisamente questo, cioè mettere a punto i sistemi, fare in modo che funzionino davvero in una situazione di emergenza e per farlo bisogna lavorare tanto in sinergia come si sta cercando di fare qui a Frosinone. Una macchina organizzativa c'è, funziona, può essere messa in campo e tutti devono partecipare, perché ribadisco il concetto, la protezione civile siamo tutti noi, tutti noi abbiamo un ruolo, chi più grande e chi più piccolo, ma dobbiamo essere tutti incanalati in un sistema che deve produrre l'effetto finale, quello di far fronte a un'emergenza che possa succedere. Grazie 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 Grazie